Si è conclusa venerdì 9 On The Road 2012, l'iniziativa volta a sensibilizzare giovani e giovanissimi sul tema della sicurezza stradale. Tre mesi di giugno e luglio, per 5 settimane, 21 studenti hanno vestito i panni di agenti di polizia, accompagnando le pattuglie e svolgendo azioni più svariate. Non solo pattugliamento, controlli o posti di blocco, ma è stata anche l'occasione di seguire corsi di tiro, difesa personale oppure ancora passare una giornata intera presso il comando dei vigili del fuoco. Un'esperienza che i ragazzi hanno definito in coro come educativa, in grado di mostrare non solo la reale importanza della sicurezza stradale, ma anche il fondamentale operato dei vari organi, tra cui polizia locale e pronto soccorso. Una grande soddisfazione soprattutto per gli organizzatori, un grande successo per loro, un grande obiettivo raggiunto per i ragazzi che sono sicuro hanno fatto un'esperienza che porteranno con sé per tutta la vita. È un modo di affrontare una realtà, una realtà seria, una realtà importante come quella della sicurezza sulla strada, il rispetto per la vita propria e la vita degli altri e direi che portare questo germe, questo insegnamento fra i ragazzi facile non è. C'è un elemento intrigante questa condivisione di questa esperienza con i vigili, con le istituzioni e forse lo stare vicino all'istituzione che dà loro quella certezza, quella sicurezza che insomma tutti insieme si possa condividere un'idea di città sicura, di strada sicura. Credo che quando si ha la consapevolezza che ci sono dei rischi sulla strada, se li conosce io credo che poi il tuo approccio sarà molto positivo. Ecco, conoscere i pericoli per poterli evitare e per cercare insieme agli altri di evitarli, tutti insieme. Durante la serata conclusiva sono stati premiati due studenti che si sono contraddistinti nell'attività di giovani agenti, Greta Locatelli, diciottenne di Ponteranica e il quindicenne Alex Vecchi di Calcinate. Il progetto inoltre permette a cinque studenti universitari di affiancare in qualità di reporter veri agenti di polizia. I riconoscimenti sono stati assegnati a Marina Pezzoni e Clara Bonazzi, 22 e 24 anni. On the Road 2012 ha visto la partecipazione di molte realtà del corpo di polizia locale, per un totale di 20 comuni coinvolti tra le province di Bergamo e Milano, la collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Provinciale e di numerosi enti, tra cui Video Bergamo e Radio Number One in qualità di media partner. L'appuntamento per l'edizione 2013 è prevista per l'inizio dell'estate, quando altri giovani avranno l'occasione unica di conoscere di persona la realtà della sicurezza stradale.